Le leggende narrano di un'eroina che supererà il Riff Per difendere la nostra isola e per salvarci tutti Maiana, l'oceano ha scelto te Maui? Mutaforma? Semidio del vento e del mare? Io sono... Eroe degli uomini Che? Veramente è Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini Ricomincia, forza Io non vado in missione con una ragazzina Questa è la mia canoa e tu navigherai fino a te Questa non me l'aspettavo L'oceano è mio amico Prima attraverseremo un oceano pieno di pericoli Kakamora Sono quasi carini Ti guardo io le spalle È l'ora di Maui Stiamo andando nel regno dei mostri Tranquilla, è molto più profondo di quanto non sembri Ci huuuu Sta ancora cadendo Continuiamo a parlare di animazione E sono sicura che ognuno di voi ha il proprio film d'animazione preferito Ma voi lo sapete quali sono i film che hanno avuto il più grande successo a livello mondiale? Ve lo dico io Ve lo dico io perché ho per voi la classifica dei 5 film d'animazione che hanno incassato di più in assoluto E partiamo subito con Cattivissimo Me 2 Perché il sequel ha guadagnato più del primo capitolo E ha dato anche il via allo spin off sugli adorabili tira piedi gialli L'incasso? Allora l'incasso ha guadagnato molto bene 970.761.885 dollari Poi al quarto posto c'è Zootopia della Disney Con un incasso di ben 1.023.191.334 dollari Al terzo posto il terzo capitolo di un mega franchise della Pixar Toy Story Con 1.063.171.911 dollari Una quarantina di milioni in più rispetto a Zootopia I Minions arrivano al secondo posto con un incasso pari a 1.159.398.397 dollari Che va ad arricchire il budget della Universal Pictures E in cima alla classifica con un risultato al box office mai visto prima Pari a 1.274.219.00 dollari C'è il gran successo della Disney Frozen Considerate poi che agli incassi del box office bisogna aggiungere tutta la parte del merchandising Video on demand, DVD, Blu-ray Arrivando a cifre davvero astronomiche Bene, fatemi sapere nei commenti sotto qual è il vostro film d'animazione preferito in assoluto E che volete consigliarmi E ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video Ciao Ciao Grazie a tutti.